Cresce il malcontento tra i commercianti del centro storico di Teramo, che ora chiedono la revoca della convenzione con la società di gestione dei parcheggi Easy Help e Comune. Il consorzio shopping in Teramo Centro ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per mettere in discussione la legittimità dell'accordo vigente. Sì, l'abbiamo presentato proprio ieri, ma questa è una cosa che abbiamo richiesto già da tanto tempo, ecco, di annullare questa convenzione tra Easy Help e Comune di Teramo. Il problema sta nel fatto che noi non riusciamo, facendo una battuta proprio, così non riusciamo a trovare l'interesse pubblico in questa convenzione. È scomparso dagli atti, da quello che si evince dalla convenzione, l'unica cosa che emerge sembrerebbe che ci sia solo l'interesse privato. Ed ecco perché chiediamo un approfondimento maggiore affinché si possa capire bene quali sono le finalità di questa convenzione. I commercianti residenti di Teramani hanno espresso la loro ferma opposizione della gestione dei parcheggi a pagamento, ritenuta responsabile di scoraggiare le visite nel centro storico. Non c'è più la fruibilità del centro storico, ossia neanche i nostri concittadini che abitano nell'immediata periferia non vengono più in centro e i parcheggi purtroppo hanno una grossa responsabilità su questo. E quindi ecco, questa convenzione va assolutamente rivista. Ovviamente c'è anche la questione del costo del parcheggiare a Teram. Non solo il costo che forse è uno dei più cari di tutto l'Abruzzo, probabilmente, ma anche questo famoso biglietto di cortesia che tarda ad arrivare e che se uno poco poco ritarda di un minuto, oltre al prezzo del parcheggio c'è anche la beffa della multa che supera le 40 euro.